Un uomo di 48 anni muore accusando un malore a seguito di un diverbio per un parcheggio e è accaduto a Zambrone in provincia di Vibo Valencia dopo la mezzanotte di ieri 22 agosto. La vittima, residente a Porto Salvo, da quanto è stato possibile apprendere, avrebbe avuto una discussione con alcuni giovani per un posto auto. La discussione sarebbe proseguita in un bar vicino alla stazione del paese dove l'uomo si trovava in compagnia della moglie dei due figli. Probabilmente il confronto si è ulteriormente acceso ed è degenerato in una lite. È stato a quel punto che il 48enne è accusato un malore e si è accasciato a terra. Inutili soccorsi attivati dei presenti, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Vibo Valencia e sono anche state acquisite le immagini di video sorveglianza per identificare tutti i protagonisti e ricostruire la dinamica della tragedia.